Ciao! Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potown Store, sito numero uno per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online, sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail, inoltre con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao grullai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck di Fragore Rivello. Prima di andarvi a far vedere la lista vi voglio invitare a passare nel link in descrizione dove c'è il link di Fantasia Store dove potete acquistare un sacco di cose tipo le tinne, i set allenatori, quindi se volete comprare qualcosa da spacchettare che vi piace potete trovarlo tranquillamente su quel sito e inserendo il codice sconto Ricca10 avrete un 10% di sconto e la cosa buona rispetto agli altri siti è che le spedizioni sono gratuite sopra i 29 euro è facilissimo arrivare a 29 euro, compri una tinne, qualche altra confezione, superi 29, c'hai il codice sconto e in più le spedizioni gratuite. Cosa aspettate? Oggi siamo qua con Grimmsnarl, un Pokémon che boh mi sa di Paul Grinch, però versione dark. Ha un'abilità pazzesca, ovvero che fin tanto che questo Pokémon è in posizione attiva, pronto lì a tirar destri su destri, gli attacchi del Pokémon dell'avversario, insomma del Pokémon attivo dell'avversario, costeranno uno in più. Quindi questo permetterà magari ad alcuni Pokémon di evitare di attaccare con uno, per dire mazzi come Spiritomb, li vai veramente a mettere sotto torchio perché non hanno grandi quantità di energie se non l'energia arcobaleno e poco altro. Quindi comunque il fatto di riuscire ad aumentare il costo di attacco di uno, cioè veramente ti dilata il prepuzio. Ma non è lì l'unica cosa che fa Grimmsnarl, perché c'è un attacco dove con tre energie, di cui una doppia in colore e un'energia a buio, fa 100 danni. E fin qua ci siamo, 100 danni non sono né tanti né pochissimi, però comunque li fa con tre energie, parliamone. In più fa 30 danni per ogni energia assegnata al Pokémon attivo dell'avversario. Di conseguenza l'abilità aumenta il costo di attacco, quindi in teoria si presume che lui se vuole attaccare deve iniziare a caricare energie. Noi se l'avversario mette tre energie per dire per attaccare, gli facciamo 190. Ed è veramente tanta roba. Può capitare magari in un Pikachu Zekrom, che ha fatto un GX da 6, o comunque lì in procinto di farlo con 5 energie, si fa 100 danni più 30 per 5. 150 si fa 250 danni nimmuso. Il mazzo è molto semplice, perché come linea base di Pokémon c'è questi indipim-pim-pim con il Grimmsnarl da evolvere con la caramella rara, oppure un Monomorgrim, il Monomorgano, che può sempre tornarci utile. Il Gumi l'ho messo lì per temporeggiare, perché magari ci fanno un KO, comunque lo piazziamo davanti e vogliamo dare in pasto qualcosa per regalare un premio, comunque anche per temporeggiare, visto che anche lui ha un'abilità dove il costo degli attacchi dell'avversario aumenta di 1. quindi comunque può dare un minimo di fastidio. Tre girasci per andarci a prendere ovviamente le caramelle che ci servono, gli aiuti, i martelli, eccetera. Zacian, T1 è fondamentale, lo piazzi, peschi 3 e via. Questo è l'utilizzo di Zacian. Il Mew per pararsi da un GX di Pikachu Zekrom, perché? Perché questo Brobrio di Morgano c'ha 170, Pikachu Zekrom fa 200 davanti e 170 dietro, quindi volendo mi può far fuori due Grimmsnarl e la partita è l'effinia. Noi ci mettiamo il Mew, pariamo i danni e chi s'è visto, s'è visto. Due amo normali per forza per andarci a riprendere i Pokémon che ci servono, le caramelle, comunicazione, l'evo aroma per prenderci le evoluzioni, i martelli. Perché i martelli? Cioè, noi dobbiamo fare danni in base a quante energie ha l'avversario assegnate sull'attivo. Ma perché gliele devo andare a levare? Può capitare che se io voglio stallare, magari l'avversario ha un'energia, anzi con tre attacca, se io lo mantengo sempre con poche energie, uno non mi può attaccare, io comunque gli faccio 100 danni, 130, quello che è, e comunque in due colpi posso fare 260, 300. Quindi comunque posso fare veramente male e hittare il mio avversario. È giusto per dare un senso di control in questo mazzo, perché visto che l'abilità di Grisner aumenta l'attacco, se io riesco a limitare anche questo, comunque può darci una mano a vincere. Gli switch e le velox fondamentali meri ordini del capo, perché se lui mi inizia a caricare i pokemon dietro, metti un esempio, Zacian, fai in tre P-Sword, trova le energie, c'ha uno Zacian con tre energie. Bene, io faccio boss, gli faccio 100 più 369, 190. Non sono da KO, però comunque lui non mi può neanche attaccare, visto che attacca con quattro, e tanta roba. Rina, una monorina ce l'ho messa, perché è sempre stuzzicante in questi mazzi, dove si gioca a pokemon di fase 2. KO su un pokemon, caramella energia, e un pokemon. È perfetta. Poi per il resto, come sempre gli aiuti, sono sempre quelli. È la meccanica del mazzo che va a cambiare. Ci sono varie liste di questo Grisner, che lo giocano con la Stadio Folletto, il labirinto misterioso, mi sembra, o mi ricordo come si chiama, il labirinto, che aumenta ancora di uno l'attacco, però andiamo ad aumentare anche il nostro costo di attacco, quindi lì diventa un attimino più complicato, lo giocano con il contrappeso, quindi bisogna trovare il contrappeso, la Stadio, diventa molto un macello, quindi ho preferito usare questa versione un po' più slim, e casomai fatemi sapere sotto nei commenti, se questa lista l'avete provata, se vi può piacere, se avete provato la lista con le Stadio, quindi sotto nei commenti scatenatevi. Detto questo andiamoci a trovare un avversario. E avversario ho trovato. Siamo contro Super Boosty Energy con un mazzo psico-acciaio, psico-acciaio non vorrei fosse un Malamar de noi altri. Allora, direi che possiamo anche iniziare noi, per regola di rispetto, noi partiamo con una mano molto spicy, perché abbiamo la Velox, volendo per prenderci lo Zacian, Grimmsnarl, Caramella, ci mancano le fottute energie, però noi con un bel Powerade Niviso l'energia la troveremo. Ok, lui c'ha un Dragapult, penso un Baby Dragapult, con il Malamar, quindi ok, mi sento in dovere di scartare lo skate, per prendere Zaciano, il villano. Eccolo qua, lo andiamo a piazzare. Peschiamo, sperando esca un'energia almeno, no, nemmeno una, ma nemmeno per sbaglio, nemmeno per sbaglio, Caramelle quante ne vuoi, Grimmsnarl quante ne vuoi, energie, no, rimaniamo lì, nell'anonimato, con la Velox, giustamente va a scartarsi l'energia, perché se no, che cacchio giochi Malamar, lui c'ha un Baby Dragapult, misto a Dragapult V-Max, o solamente Dragapult V, questo non lo so, ma lo scopriremo solamente giocando, e Ara del Giustizio, che, boh, a me non me ne frega veramente, una pulce secca, quindi potrei, trovare un'energia, no, un altro switch, ho tutte le carte non mischiate, perfetto, quantomeno, in D-Pim-Pim-Pim, lo evolviamo, nel grande Grimmsnarl, il Dark, mettiamo Girache, magari c'esce una Camilla, un qualcosa, perfetto, ora, se nemmeno con Camilla, mi esce, una Crisantema, di energia, qui siamo veramente, è roba da gatti fradici, ma veramente, cioè, per un attimo titubato, perché quella doppia si era un attimo mimetizzata, vai Zaciano, droppacela, nemmeno, non ci droppano una sega, però, comunque, abbiamo un'altra Velox, per mettere un altro, in D-Pim-P, lì, come cavolo si chiama, quindi possiamo fare poi dopo, caramella, eccetera, volendo, abbiamo ancora una Camilla indomita, per andare a sparare, lui fa Morso Jet, Mary, ok, forse Mary, non è che ci vada, non è che ci va a dare tanto fastidio, l'energia c'è, l'energia c'è, però abbiamo delle carte, veramente sudice a il lezzo, lui ha già caricato, il suo Dragapult V, o V, con due energie, il che non mi piace, però, se ci butta giù Girashi, io al turno dopo, gli schianto, ogni viso, un bordello di danni, con Grimaldello, Snarl, Sbam, primo primo per il nostro amico, 120 danni, perché il nostro Girashi, aveva una resistenza incredibile, ma non resiste proprio neanche, a un'eiaculazione di Dragapult, e ok, Grim, 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 c'è, leverei, l'altro Grim, perché non ci serve, ha una segale, ci prendiamo, Impidimp, eccolo là, il furbetto, che lancia le prugne, e, Evoroma me lo terrei, 100 e passa danni, 320, bella per te, 20 danni dell'energia del Kaiser, ci prendiamo due premi, succulenti, energia duplice, e l'ordine del caporal maggiore Giovanni, ok, volendo dopo possiamo fare boss, su quell'altro Dragapult, e andare easy, sbambere bam, e farci altri due premi, ora, vediamo se lui riuscirà, non lo so, a settare qualcos'altro, lui fa 60 più 80, ha dato l'energia sul coso dietro, e Mary, quella doppia, addio doppia, addio Giovanni, ci si vede fra due o tre mescolate, adios, abbiamo, adesso abbiamo anche la caramella, non abbiamo il pokemon da evolvere, non male, eccolo lì, Dragapulta baby, questo potrebbe essere veramente, un problema, perché se lui inizia a fare testa su testa, si può fare doppia rotella, e abbandonare, caramella, giustamente, ce le ha, ce le ha, è un caramellaro, a differenza mia, che c'ho le caramelle, ma non c'ho il pokemon, per evolverlo, non male, il martello, ci può tornare utile, forse si, forse no, o meglio, adesso ci potrebbe tornare utile, perché la nostra abilità, lo va a bloccare, lui non può attaccare, perché, questa abilità pazzesca, gli aumenta il costo di attacco, ti prego fa testa, croce, thank you, ce la rischiamo, camomilla, ti prego, almeno un'energia, non dico tanto, ok, c'è la duplice, c'è il gumi per temporeggiare, abbiamo ancora un'altra camilla, io devo fare croce, guarda, è la prima volta che sono felice, se esce croce, godo, come gaudenzio, ciao dragapult, attenzione, un premio per noi, che è uno skateboard, alla Tony Hawk, ma non ce ne frega veramente niente, vediamo che cosa ci va a fare adesso, ce ne setta un altro, no, un Dracolok, giracello, vediamo un po', Velox, ok, noi comunque, cioè, Grimmsnall è pauroso, cioè, questa abilità rompe veramente gli sfinteri, perché ok che lui gioca a Malamar, per andarsi a caricare, quindi quel coso, ha bisogno di tre energie per attaccare, però, veramente paura, veramente paura, ci esce anche l'energia, ha il limone, si fa così, camomilliamo, potevo anche dare lo skate a Gumi, ma va bene, guarda, me lo evolvo a mano, a questo punto, fanculo le caramelle, e attacchiamo, energy pressa, sono 200, 200 in il viso, attenzione, altro premio per noi, martellino, questo martello potrebbe essere succulento, però, direi che siamo a buon punto, se ci butta giù con Dragapult, il Grimmsnarl, ne abbiamo un altro dietro pronto, tanta roba, eccolo qua, il V-Max, molto potente, noi si fa 100, 200, assai danni, ha tre energie a segnare, sono 369, sono già 180, solamente con le energie che ha segnato, diciamo che questo matchup è semplice, perché comunque lui ha la debolezza, a noi, ce ne sbatte veramente il frangicciolla, però sti gran cazzi, non ho capito perché ha usato lo scambio, quando c'ha il giraci con lo skate, ma non è questa cosa, può piacere, io mi disti un bel martello, esce croce, giustamente io martelli, perché li metto se escono croce, perché? mi mancherebbe un bel giovannino, facciamo così, ci prendiamo, un altro impidimp, tanto le caramelle ci sono, alle peggio sti cazzi, questa la scartiamo, e via col vento, questo si mette, l'energia la mettiamo, ricerchiamo, magari un boss per dopo, un altro martello, guarda che esce croce, testa, lui per attaccare ha bisogno, di altre due energie, quello dietro ha bisogno, meglio è già pronto per attaccare, direi che ti levo l'energia, questa qua speciale, così non la vai neanche a riprendere, con il tuo amico malamaro, ce la rischiamo, facciamo così, evo a roma, ci leviamo grimsnail, così andiamo a, snellire un po' il mazzo per dopo, non vorrei andarlo a pescare, dopo che non mi servirebbe, veramente a niente, preghiamo il diano, che esca croce, allora, io, so che ho avuto culo adesso, ma quante croci ho fatto oggi, i martelli tutte croci, e gli attacchi su di lui, tutte croci, ora, non vorrei sembrare Gesù, però, però, questo timbro, non me ne fa veramente di niente, lui cosa fa, ritira e attacca, e sti gazzi, attacco dopo, con l'altro grimsnaarl dietro, boss ordine, questo, cosa fa, ci mette Zaciano davanti, può essere, ci mette Zacian, per far due premi, e per loccarci, giusto, ora, o top deco scambio, o qualcosa per ritirarlo, perché sennò qua, la vedo dura, come le feci, dopo che tu mangi i sassi, ci fa 60, ok, ci ha, graziato, io vorrei quasi fare così, ci ha 160, ok, in teoria un colpo lo regge, quindi io farei energia su Zacian, e se troviamo un'altra energia, dopo ritiriamo, ovviamente, no, però ci abbiamo, la caramella, il grimsnaarl, e la Mary, per tentare qualcosa di, pazzesco, altra energia, lui è un pazzo indomito, 130, vediamo se ci butta Jugumi, o qualcos'altro, magari, ci porta in range, gli altri due, infatti, le, ho detto le, e le è switch, caro amico, beccati sto 4,40, nimmuso, a noi dei tuoi danni, delle tue energie, orrore, non ci fanno paura, perché questa partita, ce l'andiamo a vincere, molto facilmente, e direi che possiamo andarci a trovare, un altro avversario, secondo avversario trovato, e ultimo di oggi, abbiamo, Itakenasami, con un mazzo completamente elettrico, e con una moneta di Raichu, e presumo che potrebbe essere, o un Nazzle, oppure un, Pikachu Zekrom, senza Girashi, visto che adesso, si usa in quella maniera, direi che abbiamo una mano, molto bella, Girashi Zasha, nella pescata è assicurata, ora, speriamo che con Girashi, ci esca, quanto meno, quanto meno, una Velox, ok, è un Pikachu Zekrom, perfetto, ha fatto un mulligan da uno, quindi peschiamo due, ovviamente le voglio prendere, ovviamente ci esce la Velox, ok, stavo per dire che non ci esce, veramente un cacchio, due Camilla, due Mary, e un cacchio, va bene, una Mary la possiamo sacrificare, per andarci a prendere, un Impinpimpo, con la sua prugna nella mano, lo andiamo a calare, Girashi, droppaci qualcosa, un'altra Velox, non è male, non è male, e farei proprio così, Velox, la lanciamo sullo scambio, tanto il Girashi, c'ha lo skate, tre caramelle, una è praisata, ok, poco male, insomma, ce la possiamo fare, peschiamo, Zacian Indomito, energie nemmeno a pagarle, nemmeno a pagarle, va bene, sarà per la prossima volta, lui, diciamo, gli possiamo dare noia con Grimmsnarl, sicuramente sì, e anche lui con questo, coso di Galar, ci va a dar noia, perché non possiamo ritirare Girashi, non male aver buttato lo scambio, Pikachu Zekrom, Guzmaiala, direi va bene, ok, Corradino, quindi energia, strumento, vediamo un po' cosa si andrà a prendere, Velox energia, onestamente direi, sicuramente i mazzi buio, con la prossima espansione, diventeranno un po' più forti, perché escono carte tipo, che ti danno una mano anche a caricare i Pokémon bui, o comunque a cercare energie, e vista la situazione, si poteva mettere anche uno spinner energetico in questo mazzo, però, non pensavo che la situazione fosse così greve, Elettro Covid, per il nostro amico Boltund, si va ad assegnare tre energie su quel Pikachu Zekrom, io c'ho niente, ti prego, testa, e la leverai su Boltund, così lui non pesca niente, vediamo se ci esce doppia testa, la volevamo, la volevamo, Morgano, Morgano lo prendo, perché quantomeno inizio, se non trovo le caramelle, quantomeno qualcosa lo riusciamo a fare, adesso, se io avevo già messo, niente, 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 se io adesso avevo l'energia assegnata e facevo il boss su quel Pikachu Zekrom, scoppiava come un petardo, io a questo punto mi sento di fare comunicazione su Grimsnarlo, prendermi un ultimo Impidimp, perché così abbiamo sempre qualcosa in mano, e facendo una Camilla uscirà un'energia, ti prego, grazie, grazie Sigmund, farei anche Grimsnarlo, così abbiamo lui, abbiamo la caramella, top giocata, la caramella su Impidimp, questo c'è, doppia, abbiamo il boss, ma abbiamo anche la ricerca in mano un po' aggressiva, bella, top l'energia, ok, devo solamente sperare che lui magari ritiri e attacchi, se assegna tutto su Pikachu Zekrom, è fantasioso, Guzmaiala, quindi si andrà a prendere, la stadio e l'energia, magari l'energia a velocità, Monte del Tuono, ammulieto al glande e l'energia a velocità, giustamente, e così si è rifullato in una maniera assurda, energia, pesca 2, e 0 ora, top scelta, amulieto al glande su Boltund, per non so quale motivo, ma ci sta, elettrocovid, lui ci prova, sta continuando a caricare come un dannato, ci vuole fare, 170 sul povero Grimsnar, e sono sicuro che ce la farà, sono sicuro, Grimsnar lo metto, io devo fare una mossa tipo così, giraci, ci provo, e se non faccio il martello, lui dopo, mi rivoga 170 in panca, devo sperare, ti prego, che esca testa, ti prego, ce la possiamo fare, ti prego, testa, godo, e te la levo su, la levo su Pikachu Zekram, così vado ad acquistare un turno, spero, io faccio boss su Pikachu, me la voglio rischiare, energia su Grimsnar, e si adesso con Zacian, trovo un'altra energia, buonissimo il limone, buono, ora lui in mano, ce l'ha, ce l'ha il monte, questa è una mossa molto suicida, io voglio che lui butti giù, giraci, perché ho bisogno di attaccare anche io, e dipende un po' a che cosa mi va a buttare giù, io dopo, in qualche maniera, c'ho l'energia, nel senso, se mi butta giù Grimsnar con la doppia, posso fare Rina e prendere l'energia, se mi butta giù Grimsnar con l'energia buio, metto la doppia e vado, visto che ha fatto Merry, me lo prendo nel deretano, complimenti, hitta Caccasame qua, eeeh, ok, devo veramente sculare, e sperare che mi hitti, il Pokémon con la doppia, anzi, il Pokémon senza doppia, hittami quello con un'energia, sola, ti prego, fai il bravo, ti prego, mamma mia che giocato, mamma mia che goduria, oh mio Dio, eeeh, in teoria, il counter contro questo mazzo, c'è, ma è nei premi, c'è Mew, è nei premi, è un po' che lo guardavo, ma non lo trovavo, quindi farei energia su Grimsnarlo, e Camilla Indomita, direi di sì, lui adesso gli si fa un, un danno abnorme, Giracilo Bencio, Camillo Bencio, e facciamo, due cinquanta, mamma mia, se lui avesse dato, l'amuleto, su Pikachu, Zekrom, cosa che si fa di normale, sarebbe stato, eeeh, non, non sarebbe andato a KO, il mio l'abbiamo trovato, però ormai è tardi, come sempre, in un matchup, dove una carta serve, sparisce, lui attacca con tre, o meglio, attaccerebbe con due, ma è stato furbissimo, non capisco il motivo, per la quale ha levato il monte del tuono, cioè, lui adesso attaccava, faceva, 30, 60, quelli che erano, però, ha preferito caricare, la roba dietro, carica il Raishu, perfetto, io comunque il KO, non ce l'ho, però bencerei Gumi, per sicurezza, eeeh, energia buio, su Indy, Pimpin, e Camillona, finché c'è Camilla, c'è Speranza, ok, Martello, devi fare testa, come non detto, come non detto, oggi solo croci, 160, sul nostro amico, che non può nemmeno ritirare, o meglio, si può ritirare, perché c'è 0 ora, attaccare, non può farci male, a meno che non assegni l'energia, su Boltund, vediamo un po', lui ci fa 80 più 80, perché Jax già l'ha fatto, Switch, ma Switch non puoi comunque attaccare, scambio di energia, giustamente ci sta, scambio di energia, quindi ci fai niente, perché ti ci vuole, un'ulteriore energia, Switch, e non puoi neanche attaccare, cioè, c'era due scambi di energia, mostruoso, poteva fare due Switch Energy, su Boltund, e ci fa, elettro covid, ok, io, niente, ci lascia la partita, si vergogna, si è vergognato di questa partita, io signori, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, e un commento qua sotto, se siete arrivati fino a qua, a vedere il video, commentate con, Grinch Snarl, e, detto questo, ci si vede alla prossima, un bel mi piace, mi raccomando, e se siete nuovi, iscrivetevi, ciao a tutti,